Dai, via, faccio io eh, dai, aspetta, via, adesso usciamo, vieni con me, vieni con me, io entro qua, io entro qua, io entro qua, dobbiamo sempre andare in diagonale, eh, quando uno esce l'altro copre, eh, uno esce l'altro dietro, va bene, questo, ok, la palla ce l'ha a lui, guarda, lui va lì, tu esci, io qua, ok, ah no, io vado, quindi tu passa da lui, aspettiamo, adesso io devo uscire, allora io esco il 3 contro 2, ok, ci siamo? Va bene, stop, giocate!